Vene varicose? Un problema, come tutti sappiamo, orribili, sgradevoli e molto pericolose. Causano dolore, stanchezza. Se le vostre gambe si stancano, se lavorate in piedi a lungo o state sempre sedute, questa è la pubblicità per voi. Come risultato della nostra ricerca nella lotta contro le vene varicose, vi presentiamo l'Ivariz, l'efficace trattamento doppia azione per le vene varicose. Lo spray criogenico inizia a funzionare immediatamente ed è altamente efficace per alleviare il dolore, rilassare le gambe e favorire la circolazione. L'Ivariz crema riattivante e L'Ivariz spray sono i tuoi migliori alleati per combattere i fastidi delle vene varicose. Il gonfiore si riduce, la circolazione viene agevolata, le gambe stanno meglio, ci si sente meglio e si ha anche un aspetto migliore. L'Ivariz, l'ultima tecnologia nel trattamento delle vene varicose alle gambe, sempre a portata di mano. Con L'Ivariz sento le gambe più leggere, mio marito è tornato ad innamorarsi delle mie gambe. Essere in sovrappeso mi ha portato ad avere le vene varicose, orribili da vedere. Grazie a L'Ivariz le gambe stanno meglio. Tecnologia Varitec 1 Preparato ad una temperatura bassissima, mantiene la purezza dei suoi componenti e viene applicato alle gambe a 9 gradi centigradi. Lo spray criogenico si raffredda, aiuta a ridurre il gonfiore e favorisce la riattivazione delle vene varicose, dando un rapido sollievo. La crema riattivante L'Ivariz contribuisce a rinforzare le pareti delle vene, migliora la microcircolazione, dà sollievo alle gambe. L'Ivariz, risultati graduali, visibili ed efficaci in tempi brevi. Mostra le gambe senza vene varicose con L'Ivariz, una soluzione per le gambe a portata di mano. Il grande risultato di ricerca dell'istituto Eternelle Farm, chiama per informazioni per L'Ivariz Spray e L'Ivariz Crema. Il kit L'Ivariz ad un prezzo speciale. Per un periodo di tempo limitato puoi avere entrambi e pagarne solo uno. L'Ivariz, una soluzione per le gambe a portata di mano. È incredibile, ho potuto ottenere risultati in breve tempo. Chiama per informazioni per L'Ivariz Spray e L'Ivariz Crema e lo spray. La crema riattivante è in regalo con L'Ivariz, una soluzione per le gambe a portata di mano. L'Ivariz, risultati graduali, visibili ed efficaci in tempi brevi. Mostra le gambe senza vene varicose con L'Ivariz. Chiama per informazioni per L'Ivariz Spray e L'Ivariz Crema e lo spray. L'Ivariz, risultati graduali, visibili ed efficaci in tempi brevi.